Grazie a tutti. Abbiamo una riqualificazione importante del territorio della città di Trieste, sicuramente dovrebbe entrare in un sistema regionale dove vedo per esempio il parco del Mara Trieste, dobbiamo ragionare invece sul sistema fieristico anche per altre aree della regione e quindi creare una questione di collaborazione dove non ci siano sovrapposizioni ma invece una complementarità delle diverse iniziative che si subiteranno sul territorio regionale. Ovviamente mi consulterò con la futura giunta, con gli assessori referenti, con il consiglio, però mi piacerebbe che Regione Frivenenza Giulia sia presente ancora più di quanto adesso perché nei progetti dove si riqualifica un'area, si danno posti di lavoro, si crea economia, sarebbe una follia che il pubblico non metta l'impegno.